Passo adesso la parola al collega assessore del Comune di Sassu Maggiore Eterno, Marco Trenisal per i saluti dell'amministrazione. Grazie, grazie a tutti voi, porti saluti ovviamente dell'amministrazione comunale, del sindaco, di tutta la giunta e dei consiglieri che sono sempre molto felici di vedere che la federazione ciclismo sceglie Sassu Maggiore come luogo d'incontro per i propri corsi di aggiornamento dei direttori sportivi oggi, anche a volte dei ciclisti professionisti e così via. Quindi ritengo che potremmo cambiare il nome di Sassu che è considerata la città della salute, potremmo chiamarla la città della salute del ciclismo perché sicuramente fa molto piacere vedere che venga scelta sempre questa sede per questi incontri molto importanti. Mi associo anch'io a quello che ha detto il Presidente riguardo agli attentati e anche al discorso della comunicazione che secondo me è estremamente importante perché probabilmente questa deriva della libertà della comunicazione può portare ad essere abbastanza pesanti se non viene fatto in modo etico. Vi auguro buon lavoro e spero che le giornate di lavoro siano felici e con un buon tempo anche se oggi abbiamo una niente e speriamo che migliori la situazione. Esatto. Ok, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.